I ragazzi, la mamma, eh? Avete visto il piccolo che mangia qui da solo e anche quello là là da solo? O quello oggi? Quale? Il piccolo là che sta là davanti. Quello? O quello là in fuoco? Quale tipo di pezzo gli fanno in bocca? Sì, perché ha paura che glielo freghino. Si riprende qui? Sì. Aspetta che finiscano di mangiare, aspetta. Aspetta che adesso vedi che intanto lei ci pensa a cacciare gli altri e vedi che i piccoli, che il papà va a rompere quello dei piccoli. Si aspetti. Guarda, adesso non li ne lanci più. Siccome stai lanciando dei pezzetti grandi. Sì. Siccome stai facendo dei pezzetti grandi. Hai visto? Aspetta che purse. Non le occupe. Questo è molto bene. I robottini sono... Amore, vedi i robottini? Amore.